Eccoci qua, Babbo Natale sta mandando il messaggio, questo è un classico della letteratura dove tira su la cosa, la baffetto, si ci sei, ci siamo, dalla regia aspettiamo che arrivi il messaggio di conferma che i bambini sono in postazione, ok perfetto, adesso lentamente saliremo le scale, vediamo l'olore, vediamo un carico, se sempre vuoi dire qualche cosa No, veramente, voi state scherzando, Babbo cosa dici andiamo ad ascensore, allora ti faccio l'uscita dall'ascensore io, aspetta che ti prendo qualche cosa Babbo, è una situazione difficoltosa, no, non sono due, piano piano, saliamo l'ascensore, la è piano, stiamo un po' lontano, ci siamo, saliamo, l'ascensore è libero, vedi, aspetta, vai, due ore avanti, sì, vai avanti, sì, vai, però qui, eccolo qua, che sale, cioè speriamo che si accenda la luce, lo vediamo, va, vediamo, va, 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 accendere luci, incredibile, esclusiva, ce l'abbiamo solo noi queste immagini, arrivano direttamente dalla Napoglia la consegna mambo Natale ce l'ha fatta, anche quest'anno, mambo Natale ce l'ha fatta, anche quest'anno a compiuto l'impresa, vediamo, babbo Natale, babbo Natale, babbo Natale, ha compiuto l'impresa, ha compiuto l'impresa, un applauso, un applauso, vai babbo, sei grande, vai babbo, sei grande, vai babbo,